Sì Ma stiamo a queste piero là Lì c'era un settierino, sembrava bello. Eh, stico leggo sulla strada. Qua strada sotto. Qua strada. Qua strada sotto. Poi individuare il sentiero, quello che ti ha detto il motociclista, hai capito o dov'è? Poi individuare il sentiero il sentiero, il sentiero, il sentiero, il sentiero, il sentiero, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti